doppie sedute allenamento tutti i giorni e obbligo di pranzo e cena allo stadio queste le misure della società per la gara con la Lazio attaccanti in grande spolvero nella sessione di allenamento odierna agli ordini di gigi del neri l'obiettivo è tornare a far gol periodo nero per il pordenone i nero verdi perdono il recupero con il teramo e la terza sconfitta in quattro partite sconfitta anche per la gemonese i friulani perdono con trento nella prima gara della coppa italia d eccellenza buonasera e ben ritrovati amici di udinese tv ben ritrovati con il contenitore informazione sportivo dedicato all'udinese e non solo partiamo proprio con i bianconeri è scattato il ritiro di urno è stato definito così questa misura scelta alla società per preparare al meglio la sfida con la Lazio ne parliamo con il direttore sportivo nero bonato collegato con noi al telefono buonasera direttore buonasera a tutti voi direttore allora può spiegarci qualcosa in più in merito a questa misura presa dalla società è stata diremo una misura che che speriamo ci possa portare a trovare tutte le contromisure per alzare il livello delle prestazioni per andare a limitare gli episodi che hanno compromesso quest'ultimo periodo e soprattutto per trovare quelle motivazioni qui diremo quelle situazioni che ci hanno permesso di chiudere molto bene il giro dell'andata e quindi si è cercato di studiare degli allenamenti proprio appositi per reparti per cercare di lavorare sulle varie situazioni di gioco e di stare assieme perché credo che stando assieme analizzando tutte le cose sia più facile trovare la soluzione e amalgamare il gruppo per poi scendere in campo nelle migliori condizioni Si è spiegato cosa è successo alla squadra? Il perché di questo periodo in chiaroscuro? Credo che deve essere un'analisi molto allargata perché in questo periodo sicuramente il calendario non è dei migliori perché affrontiamo tutti diremo le squadre che si trovano nella parte alta della classifica in gran parte abbiamo qualche situazione di situazione non ottimale mi riferisco un po' alla situazione di Terò anche se in fase di risoluzione la situazione di Bidmer, la situazione di Badu che abbiamo perso per questo mese che adesso dobbiamo recuperare dopo l'Aquad Africa quindi tante situazioni che si sono sommate al di là della caratura degli avversari che non ci hanno permesso di continuare il brillante cammino di fine andata è altrettanto vero che qualche errore l'abbiamo commesso e quindi è ovvio quando è così dobbiamo cercare di serrare le fila cercare di analizzare tutti insieme quelle che sono le varie problematiche per cercare di risolvere nei più brevi tempi possibile Perfetto, ringraziamo il direttore sportivo Nereo Bonato, buonasera Buonasera a tutti voi Concentriamoci adesso sull'allenamento che ha sostenuto l'Udinese quest'oggi doppia seduta di allenamento in gran spolvero agli attaccanti, ci racconta tutto Stefano Giovampietro Doppia seduta di allenamento per l'Udinese di Gigi Del Neri abbiamo seguito la seduta pomeridiana che si sta ancora svolgendo qui alle mie spalle sul campo 2 del centro sportivo di Nobruseschi tempo nebbioso, accenno di pioggerellina, stile inglese come spesso citiamo ma assolutamente squadra che si è allenata ad alti ritmi dopo un'intensa prima fase di discorso da parte di Gigi Del Neri che ha tenuto a rapporto tutti i suoi giocatori, i suoi ragazzi con toni assolutamente pacati ma assertivi Del Neri ha voluto far capire ai suoi cosa non è andato ovviamente l'analisi del match contro il Sassuolo è già stata fatta è già stata sviscerata la partita negli errori dei ragazzi bianconeri soprattutto nel secondo tempo ma adesso bisogna lavorare sulla mentalità su quella che è la serenità di gruppo la gioia di lavorare in squadra di trovare le soluzioni migliori tutti insieme remando tutti nella stessa direzione in due gare che saranno molto difficili Lazio fuori casa e Juventus in casa la partita Galada-Carena ha già registrato il sold out sono due appuntamenti molto importanti che arrivano dopo due sconfitte consecutive appunto quella contro la Fiorentina e quella contro il Sassuolo Lazio che vedrà l'Udinese senza Alfredson e De Paul entrambi squalificati dal giudice sportivo i sostituti naturali sembrano essere Coombs e Matos ma non ovviamente mancano le alternative da Balic a uno spostamento di Fofana al centrocampo oppure l'inserimento di Evandro Davanti ancora presto magari per vedere quali saranno le scelte di Gigi Del Neri di certo è che dall'altra parte Simone Inzaghi dovrà rinunciare per lo stesso motivo a Lucas Biglia il metronomo bianco celeste che sicuramente è un'assenza pesante per la Lazio anche qui o lo spostamento di Parolo o l'inserimento di Murgia tra le opzioni che potrebbe avere il tecnico Simone Inzaghi detto questo la squadra si è allenata con una parte di riscaldamento e poi partitella a pressione a campo ridotto con anche dei grandi pezzi di bravura da parte di alcuni singoli su cui sta lavorando anche con discorsi personalizzati del Neri su tutti i Perizza ma anche lo stesso Zapata ha segnato un gol incredibile con un pallonetto da centrocampo ci sembra molto motivato il colombiano tutti vogliono anche ritrovare la via del gol perché effettivamente solo tre gol segnati in questo 2017 sono assolutamente pochi bisogna invertire il trend e lo si proverà a fare proprio dalla gara contro la Lazio di domenica pomeriggio alle ore 15 Trend che non è riuscito ad invertire invece il Pordenone ancora una sconfitta per gli uomini di Tedino che hanno perso a Teramo nel recupero della terza giornata del girone d'andata ci racconta tutto Francesco Tonizio Niente da fare per il Pordenone nel recupero della 22esima giornata di campionato di Lega Pro sul campo del Teramo nella gara rinviata tre settimane fa in occasione del maltempo che aveva flagellato il territorio abruzzese costringendo al rinvio 2-0 il risultato finale che vessa le ambizioni di primato dei neroverdi del presidente Lovisa che dopo la sconfitta maturata a Venezia sabato scorso incassano dunque il secondo K.O. consecutivo i biancorossi teramani hanno sbloccato il risultato al 36esimo con una magia di barbuti occorsa al termine di un match davvero teso la partita si è messa subito in moto su ottimi ritmi imposti soprattutto dal Teramo mentre il Pordenone non è mai riuscito a prendere davvero l'inerzia giusta nella partita solo nella ripresa c'è stata la reazione dei ramarri del mister Tedino che con Pietri Brasi ha cercato subito il pareggio venendo però colpito nel secondo tempo da un autorete di semenzato che ha portato il finale sul 2-0 definitivo per il Teramo a questo punto dunque il Pordenone dovrà pensare a concentrarsi solo ed esclusivamente per il posticipo di lunedì prossimo di nuovo al campo Bottecchia con il Bassano Parliamo adesso della Coppa Italia d'eccellenza va male alla gemonese sconfitta con Trento Confitta ma non ridimensionata alla gemonese nel debutto dei pedemontani nella 51esima edizione della fase nazionale della Coppa Italia per dilettanti Oggi pomeriggio la squadra del mister Fabio Pittilino è stata battuta per 2-0 a Trento nella prima gara del triangolare che vede impegnati, oltre ai gialli rossi friulani e ai trentini anche la clodiense, avversaria della gemonese il prossimo primo marzo nella seconda partita in calendario Pulpriva delle stelle Nardi e Tocchetto e del portiere Tusini la truppa pedemontana ha resistito per quasi un'ora sul terreno della Corazzata Trento società che per anni è stata protagonista nelle categorie professionistiche e che oggi, dopo il fallimento e la risalita dei campionati regionali sta dominando l'eccellenza in Trentino Alto Adige da imbattuta Nel secondo tempo, di Gatta Melata al 67esimo e Menegot all'85esimo le detti che hanno dato ai padroni di casa in dieci per quasi tutta la ripresa per l'espulsione di Gonzales il successo per poter sperare nel passaggio del turno la gemonese dovrà tra una settimana battere la clodiense con tanti gol all'attivo e magari nessuno al passivo per poi puntare a trarre vantaggio dalla classifica avulsa e diamo la solita notizia di riepilogo di quello che avverrà domani domani c'è l'amichevole internazionale del giovedì alle 15 questa volta l'avversario sarà l'NK Ankaran formazione che milita nel campionato sloveno il test internazionale, tappa di avvicinamento alla sfida di Serie A contro la Lazio sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito in tribuna centrale nord l'apertura dei cancelli è fissata per le ore 14 la gara sarà trasmessa in diretta su Udinese TV era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale io cedo la linea a Valentina Beharzi al suo TG Cronaca e vi auguro come al solito buona serata è ancora caos nel mondo della scuola in Friuli Venezia Giulia i sindacati hanno lanciato l'SOS su organici degli ex provveditorati e dell'inizia scolastica avviato oggi dal porto di Trieste il collegamento intermodale che unisce il corridoio adriatico baltico tra il Friuli Venezia Giulia e la Svezia saranno patuglie miste di forze dell'ordine forestale a presidiare le rive dell'Isonzo evitati gli accampamenti e le cucine improvvisate dei richiedenti asilo dopo la puntata di fuori tutto dedicato agli alloggi Ater gli inquilini si fanno sentire la legge è da rivedere Buonasera benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di UD News in apertura i problemi della scuola a cattedre tuttora vacanti nella primaria nomine in stand by in quella dell'infanzia organiciata ridotti di oltre un terzo in dieci anni insufficienti a garantire funzionalità pulizia e sicurezza delle scuole ecco la fotografia dei sindacati che oggi hanno esposto hanno parlato di questi problemi in consiglio regionale vediamo sono 52 le scuole della Friuli Venezia Giulia senza dirigente scolastico e gestite dunque attraverso il sistema della reggenza che vede un singolo preside occuparsi contemporaneamente di due o tre istituti le scuole scoperte in regione sono del 30,4% contro una media nazionale delle 16 il dato è stato reso noto oggi dalle organizzazioni sindacali della scuola nel corso di una audizione organizzata da parte della Sesta Commissione del Consiglio regionale CGL, CISL, Will e SNALS, ComSAL parlano in una nota congiunta di carenza dei caratteri emergenziali destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti mentre ancora si aspetta l'emanazione dell'atteso concorso Durante l'audizione i sindacati hanno evidenziato i diversi problemi legati all'applicazione della legge 107 la cosiddetta buona scuola che secondo gli stessi rappresentanti sindacali ha mancato i suoi obiettivi non riuscendo a realizzare nel presente anno scolastico un'ordinata ripresa delle attività le quali hanno registrato ritardi e disfunzioni di gran lunga superiori a quelle degli anni scorsi con cattedre tuttora vacanti nella primaria e nomine in stand by nella scuola dell'infanzia organici ata ridotti di oltre un terzo in dieci anni e quindi insufficienti a garantire la funzionalità la pulizia e la sicurezza delle scuole una situazione che fa dire ai sindacati che gli istituti del Friuli Venezia Giulia sono ancora nel caos da parte dei consiglieri regionali prima o fra tutti il forzista Roberto Novelli la richiesta alla presidenza della sesta commissione di valutare la possibilità di chiamare in audizione il ministero dell'istruzione l'assessore regionale referente per discutere pur nei limiti legislativi e deliberativi della regione della situazione friulano-giuliana e delle possibili azioni da mettere in campo da parte della consigliere regionale del PD Silvana Cremaschi inoltre la richiesta di verificare anche il potere di intervento della commissione sui tempi di predisposizione dei bandi di concorso L'economia Fincantieri, China State Shipbuilding Corporation e Carnival hanno firmato un memorandum di intesa vincolante per la costruzione di due nuove navi da crociera per un valore di circa un miliardo e mezzo di dollari e per ulteriori quattro in opzione saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in Cina per il mercato cinese Primi passi concreti nella creazione del corridoio adriatico-baltico avviato dal porto di Trieste il sistema intermodale di trasporto di contenitori semirimorchi e casse mobili in arrivo e partenza via mare dalla Turchia e dalla Grecia avente come origine e destinazione il mercato dell'area baltica È stato inaugurato stamattina il primo collegamento logistico fra il mare adriatico e il mar baltico con la partenza del primo treno dal nuovo servizio intermodale a lunga percorrenza che collega il porto di Trieste al porto di Kiel in Germania La linea prosegue poi via mare sulla direttrice Kiel-Goteborg con collegamenti anche per Malmo e Oslo realizzando concretamente le linee guida del corridoio europeo adriatico-baltico L'obiettivo è il trasporto di contenitori, semirimorchi e casse mobili in arrivo e partenza via mare dalla Turchia e dalla Grecia e avente come origine e destinazione il mercato dell'area baltica La cerimonia di inaugurazione si è svolta al termine EMT del porto nuovo di Trieste alla presenza della Presidente della Regione Deborah Serracchiane e del Presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino Oggi per me è un giorno particolare, direi quasi storico perché quando la Commissione Europea ridisegnò i corridoi europei io ero appunto parlamentare europeo, membro della Commissione Trasporti e abbiamo insistito tantissimo con alcuni colleghi in particolare con il collega Leichtfried che oggi è Ministro dei Trasporti in Austria abbiamo insistito tantissimo nel dire quanto l'Adriatico-Baltico fosse il corridoio più importante almeno per le nostre traiettorie, per i nostri tratti e devo dire che la Commissione ci ascoltò e se oggi abbiamo questo primo treno tra Trieste e la Svezia credo che sia anche il risultato del lavoro che tanti hanno fatto anche dopo di noi per raggiungere appunto questa opportunità Particolare soddisfazione per la nuova rotta di collegamento è stata espressa dall'ambasciatore svedese in Italia Robert Rydberg Viviamo in un tempo dove si parlano di nuove frontiere del protezionismo credo che è importante mostrare che veramente l'intercambio commerciale è una rotta al sviluppo economico ma anche alla sicurezza e alla pace in Europa In Friuli Venezia Giulia il trend di lenta crescita iniziato nel 2014, la fine dell'anno scorso ha subito una battuta d'arresto in particolare con una flessione dell'export da sempre punto di forza dell'economia regionale il dato emerge dall'indagine congiunturale trimestrale svolta da Confindustria per il quarto trimestre 2016 il bilancio di esercizio 2016 invece dell'aeroporto del quale stiamo guardando le immagini si chiude con un piccolo attivo e per il 2017 si prevede un margine operativo lordo di 5.300.000 euro pari a 2.800.000 euro di utile netto lo ha reso noto la società di gestione dell'aeroporto il cui presidente Antonio Marano ha affermato che stiamo vincendo una partita chiave per il territorio la previsione 2017 basata solo sui collegamenti attualmente in portafoglio allo scalo ha la previsione di un incremento del fatturato del 28% e supera anche le previsioni a 5 anni del piano industriale Passiamo ora alla cronaca Papa Francesco ha oggi incontrato i familiari delle vittime di Dhaka in Bangladesh costato la vita a 20 persone tra cui 9 italiani i nostri concittadini Marco Tondat e Cristian Rossi sono stati ricevuti i familiari da Papa Francesco questa mattina prima dell'udienza generale in piazza San Pietro Papa Francesco ci ha ringraziati per la testimonianza d'amore che stiamo dando perché anche per lui siamo stati un esempio le prime parole di Maria Gaudio la moglie di Vincenzo Dall'Estro di Piedimonte Mattese accogliente, premuroso ha ascoltato le nostre storie e le iniziative di solidarietà che sono nate dopo la morte dei nostri cari e proprio di amore ha parlato Papa Francesco di come sia facile dopo aver sperimentato il dramma di una simile morte passare dalla via dell'amore a quella dell'odio voi avete fatto diversamente ha sottolineato il pontefice scegliendo di percorrere la strada giusta e andiamo sull'isonzo le rive del fiume saranno presidiate da pattuglie miste è stato deciso in prefettura Gorizia la presenza di tre assessori regionali per evitare gli accampamenti dei richiedenti asilo la sorveglianza spetterà a forze dell'ordine e alla forestale sulle rive dell'isonzo sono in arrivo pattuglie miste che saranno incaricate di evitare accampamenti o cucine improvvisate dei richiedenti asilo il compito spetterà le forze dell'ordine insieme alla guardia forestale secondo quanto stabilito nel vertice ospitato della prefettura di Gorizia e a cui hanno partecipato gli assessori regionali all'ambiente Saravito all'integrazione Genni Torrenti alle risorse agricole e forestali Cristiano Sciaurli o tre rappresentanti di forze dell'ordine e protezione civile presenti inoltre i sindaci di Gorizia e Gradisca Ettore Romoli e Linda Tomasinsic che a fronte dell'abitudine dei migranti di stazionare sulle rive hanno più volte segnalato la pericolosità del lisonzo soggetto pieno improvvise determinate dall'apertura degli sbarramenti situati in Slovenia un altro problema correlato alla presenza dei richiedenti asilo è quello dei rifiuti abbandonati è stato stabilito che gli stessi migranti saranno coinvolti nelle operazioni di pulizia delle sponde secondo modalità che saranno concordate a breve Sciaurli si è reso disponibile a partecipare al tavolo tecnico convocato dalla prefettura per martedì 28 per organizzare la presenza di personale sulle rive dell'isonzo sia in termini di prevenzione del rischio che di educazione ambientale Torrenti è invece dichiarato la disponibilità della regione a sostenere con i fondi necessari anche il comune di Gorizia per progetti che prevedano l'impiego volontario dei richiedenti in attività socialmente utili Con la cronaca torniamo a Udine serata movimentata ieri sera in piazzale della stazione un cittadino rumeno di 46 anni è stato arrestato dal personale della polizia ferroviaria l'uomo evidentemente in stato di alterazione alcolica coinveiva contro i passanti durante il controllo dei militari ha perso le staffe li ha aggrediti con pugni e spintoni alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza, resistenza, minacce lesioni aggravate pubblico ufficiali uno dei poliziotti infatti è stato soccorso all'ospedale ha una prognosi di 5 giorni invece un ragazzino minorenne friulano è stato derubato ieri pomeriggio del proprio cellulare da un coetaneo probabilmente di origine straniera che lo avrebbe anche minacciato con un coltellino tascabile è successo nella zona dell'autostazione delle Corriere di Udine il giovane secondo il racconto della vittima si sarebbe avvicinato chiedendogli di poter fare una telefonata il giovane credendo di fargli un favore gli ha prestato l'iPhone ma non è più riuscito a ottenere la restituzione anzi quando ha chiesto di riaverla è stato minacciato con la lama dal ragazzo che si è dileguato la vittima dopo aver chiamato i genitori ha anche esporto denuncia ai carabinieri e nella puntata di Fuori Tutto andata in onda ieri abbiamo discusso delle novità introdotte dalla legge sulle case Ater siamo andati a raccogliere la voce di uno dei sindacati degli inquilini nessuno assentiamo le loro rimostranze comunque tutti devono pagare ma in base alle loro risorse non in base a delle risorse che qualcuno pensa che loro abbiano noi riteniamo che bisogna modificare il sistema abbiamo chiesto che vengano ridotti gli scalini della fascia A a posto delle 1.500 euro ma secondo il punto di vista deve essere fatta di nuovo una scelta politica forte nella quale i cittadini sino a una certa fascia devono pagare un reddito minimo l'Emilia Romagna ha deciso le cito questo per dire che tutto è possibile fare ha stabilito il 35% di sconto per chi ha un reddito di 17.000 sugli affitti 35% noi invece partiamo con 1.000 euro su redditi zero il che non è tollerabile potrebbe essere una buona legge l'applicazione non va bene deve farsene carico l'assessore Santoro deve essere chiaro che non può essere i direttori delle ATER devono pensare che non è allungando la scala che si abbatte che si riduce il costo per i cittadini si è lamentato perché io le faccio vedere affitti la differenza fra un affitto passato e un affitto di oggi a valità di reddito c'è una differenza enorme parliamo ora di commercio nei centri storici i negozi locali a Udine sono calati dell'8% nel giro di 8 anni lo rivela un'indagine di Confcommercio Nazionale che lancia l'allarme a fronte di una tendenza sempre più diffusa nel nostro paese nel giro di 8 anni a Udine le attività commerciali nel centro storico sono calate dell'8,4% lo rivela l'indagine di Confcommercio Nazionale sulla demografia di impresa che appunto fa un confronto tra il 2008 e il 2016 considerando 40 comuni italiani di medie dimensioni dalla ricerca emerge come in tutta Italia i centri storici si stiano via via spopolando tanto che in media la riduzione di attività commerciali arriva al 13,2% le ragioni sono tante dalla crisi e dalla conseguente riduzione del giro d'affari ai canoni di affitto fattore quest'ultimo che incide pesantemente sulla sopravvivenza di negozi e locali nel caso di Udine è soprattutto il commercio al dettaglio essere caratterizzato dal segno meno la riduzione è stata infatti del 10,9% soprattutto per i negozi di prodotti non alimentari salta invece all'occhio l'impennata addirittura del 75% dei negozi di informatica e cellulari è stato invece del 13,2% il calo del commercio ambulante mentre alberghi bar e ristoranti sono diminuiti del 4% più contenuto il calo di esercizi commerciali nelle zone periferiche della città in questo caso la contrazione è stata dell'1,6% in controtendenza rispetto al resto della penisola si rivela a Trieste dove è stato registrato addirittura un aumento del 2,1% degli esercizi nel centro storico è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto ministeriale di protezione nazionale transitoria per la pitina IGP con questo atto viene riconosciuta per ora a livello nazionale in attesa del completamento dell'ITER a Bruxelles la protezione dell'indicazione geografica pitina e la legittimità dell'uso della denominazione da parte dei produttori che rispettano nel disciplinare disponibile dal 9 dicembre scorso la pitina è un prodotto a base di carni ovi caprine o di selvaggina ungulata conservata in una fumicatura e con uno strato protettivo di farina di mais si può produrre esclusivamente nel territorio dei comuni di Andreis Barchis Cavasso Nuovo Cimolais Clouterto e Casso Frisanco Maniago Medune e Montereale in provincia di Pordenone in meno di un anno ha commentato l'assessore alle politiche agricole Cristiano Schaur abbiamo rimesso in moto l'iter burocratico e portato a casa un risultato inseguito per parecchi anni grazie alla sintonia che si è creata tra i nostri uffici e quelli del Ministero ci auguriamo ora di trovare la stessa sintonia anche a Bruxelles una strada unica che idealmente collega la costa con le montagne passando per i vigneti e le colline dell'entroterra regionale mette in rete le risorse vitivinicole agroalimentari culturali e ambientali è la strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia ce ne ha parlato il direttore marketing di Promo Turismo Bruno Bertero una rivoluzione per la strada del vino e dei sapori di cosa si tratta? si tratta di un progetto a valenza turistica che identifica immediatamente quali sono i livelli standard qualitativi con i quali raggrupperemo i nostri operatori non solo legati al mondo del vino ma legati classicamente a tutto il mondo della somministrazione enogastronomia produzione tipica della nostra regione raccogliendoli in un progetto che sia un progetto di promozione turistica l'obiettivo è quello di profilare un'offerta per il cliente foodies ovvero quel cliente che muove e si muove in funzione di quelle che sono le offerte enogastronomiche di un territorio è un progetto che riguarderà quindi tutta la regione? è un progetto che riguarderà tutta la regione soprattutto quei territori a vocazione vitivinicola ed è un progetto che così strutturato interesserà come offerta un mercato che è un mercato primo di prossimità quindi mercati tedeschi mercati austrieci e mercati italiani ma soprattutto avrà le potenzialità di parlare a quelli che oggi sono i viaggiatori del cibo che diventano uno strumento di promozione si stessi della destinazione ed è il segmento quello legato al comparto foodies in maggiore espansione nell'arco degli ultimi anni abbiamo iniziato con tutta quella che è la parte di disseminazione di quella che è la proposta ai nostri operatori dal mese di dicembre abbiamo concluso in questi giorni la tredicesima presentazione proprio per poter coinvolgere un maggior numero di operatori siamo circa 350 gli aderenti che hanno manifestato il loro interesse e ad oggi circa 170 gli aderenti a questa proposta tappe successive arriviamo con quello che è la presentazione vera e propria del prodotto con Verona la tappa di Vinitaly dove faremo una presentazione di quella che è la nostra offerta con i primi elementi di commercializzazione verso volte al mercato finale e al mercato intermediato la magia delle Winx le celebri fatine della serie Winx Club prodotta da Rainbow è pronta a invadere le piste da sci del Friuli Venezia Giulia ancora pochi giorni e tutte le piccole sciatrici amanti della montagna potranno vivere un'esperienza davvero indimenticabile grazie al Winx Magic Ski che si terrà dal 24 febbraio al primo marzo 2017 nelle principali località sciistiche friulane Winx Magic Ski fa tappa a Tolmezzo il 24 febbraio a Forneavoltre a Sappada il 25 a Forne di Sopra il 26 sullo Zoncolang a Ravascletto il 27 così come a Sella Nevea a Pontebba il 28 febbraio e anche a Tarvisio chiusura a Piancavallo il primo marzo ogni giorno in programma tantissime attività sulla neve laboratori creativi magiche fiaccolate giochi e quiz per ripassare insieme alle fatine le regole dello sci sicuro incontri con le Winx e lo spettacolo Winx Show per sorprendere le fan nel Winx Village sulle piste nelle piazze e nei palazzetti ma non solo il primo marzo a Piancavallo giornata conclusiva del tour in alta quota la magia delle fatine si unirà alla finale regionale del Gran Premio giovanissimi un'occasione unica che per i bambini fino a 10 anni si fa ancora più conveniente per loro infatti in Friuli Venezia Giulia lo ski pass è gratuito infine per chi deciderà di viaggiare con la SAF l'azienda di trasporti friulana conservando il biglietto potrà ritirare un magico gadget presso una delle tappe del Winx Magic Ski a collaborare nell'iniziativa all'associazione maestri di sci del Friuli Venezia Giulia il 26 febbraio del 77 40 anni fa tra le macerie del terremoto nacque la Cineteca del Friuli con le prime proiezioni di cartoni animati nelle baraccopoli per festeggiare questo compleanno la Cineteca ha messo a punto una serie di iniziative in questo fine settimana ne parleremo domani mattina con il presidente Livio Iacob nel corso di Buongiorno Friuli dopo la consueta rassegna stampa quindi appuntamento come sempre puntuali alle ore 7 della mattina con Buongiorno Friuli adesso le previsioni del tempo dalla costa alle prealpi atmosfera umida con cielo coperto foschie qualche nebbia locali piovigini specie a est sulle zone più interne della carne nel Tarvisiano nuvolosità variabile con schiarite in giornate specie verso sera piogge sparse in genere deboli e deboli nevicate oltre 1200 metri circa sulle prealpi sulla costa inizierà a soffiare vento da sud moderato e con questo è tutto noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata insieme a Udinese T a Udinese T